di distrazione. Olè, stiamo attaccando la Cisa, attaccando per modo di dire perché è tutta bagnata, tutta umiliccia e quindi gusto personale, diciamo che sul bagnato amo andare lento, ecco, mettiamola così, visto che i ragazzi del gruppo delle media invece sul bagnato ci sguazzano, mi sembrava Mario ma non era Mario quello che avevo attaccato dietro da un'ora, ha la stessa moto ma non è lui e quindi niente, volevo fargli il video ma niente, va bene così, ero sicurissimo fosse il nostro Mario. Qua un altro Velox per noi, da qualche parte, bombardamento di Velox. Un'ora lì, speriamo bene. Wow. Questo, se mai lo postiamo, sarà uno dei video più brutti mai fatti dal sottoscritto. Strada bagnata, praticamente da solo, in solitaria, a guidare una merda. Strada bagnata, praticamente da solo, in solitaria, a guidare una merda. Strada bagnata, praticamente da solo, in solitaria, a guidare una merda. Ecco, è un'ora di raccordazione. Mi piace, 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 si vuole. bella curva attenzione mezza curva asciutta a bomba vai Ariel ecco qua già niente qua di nuovo si si ripete ho bagnato un simpatico signore sorridente faceva una passeggiata a rischiare la vita nella cisa ho ripreso due dei nostri un multistrada e un MT-09 ci potrebbe stare un sorpasso a sverniciarli ai 30 all'ora contro i 28 l'oro sul bagnato mediamente è una gara a chi fa un po' meno schifo sono contento attenzione lo svernicciamo ah no è un altro multistrada doppio multistrada attenzione due multistrada uno dietro l'altro madre questa fa schifo di bravo bravo yuhu siamo arrivati voilà ecco di quei patatini la tua destinazione si trova sulla sinistra voilà come com'è andata hai visto mica devono essere tutti minchiette come noi c'è niente che sul bagnato sa andare